Amici di Agrisette benvenuti al nostro tradizionale appuntamento con l'agricoltura questa settimana fuori dai confini della provincia di Reggio perché ci troviamo a Bologna alle porte di Fico, il parco tematico dedicato al cibo, un'eccellenza per quanto riguarda la regione Emilia-Romagna ma soprattutto un simbolo di ripartenza dopo anni complicati. Abbiamo sfruttato una grande opportunità quella di visitare Fico durante un giorno di chiusura ed è stato perfetto perché abbiamo potuto cogliere tutte le sfumature e le caratteristiche e soprattutto abbiamo parlato di quelli che saranno gli eventi che caratterizzeranno l'estate e i prossimi mesi del parco tematico dedicato al cibo. Adesso il primo passaggio con la presentazione proprio di Fico in compagnia di Valentina Lanza responsabile marketing di Fico qui a Bologna. La prima tappa del nostro percorso all'interno di Fico, parco tematico dedicato al cibo qui a Bologna è proprio dall'interno della Rotonda del Vino. In nostra compagnia c'è Valentina Lanza responsabile marketing di Fico e innanzitutto la domanda cosa ci possiamo aspettare, cosa si devono aspettare i nostri telespettatori da questo viaggio? Fico è un viaggio alla scoperta del cibo italiano, questo parco è stato costruito in sette aree tematiche che rappresentano un po' le nostre eccellenze, quindi il vino, questa la Rotonda del Vino, l'ulivo, l'olio, la pasta, i salumi e i formaggi e l'area dei dolci. Per concludere insomma in dolcezza questo viaggio all'interno di Fico che significa fabbrica italiana contadina ed è appunto il parco del cibo di Bologna. Possiamo definirla anche proprio un'eccellenza a livello italiano e diciamo subito un simbolo di quella che potrebbe essere un'importante ripartenza della nostra economia? Certo, Fico rappresenta un'eccellenza italiana che è quella del cibo ed è anche così un po' un simbolo di ripartenza dell'intrattenimento, del turismo, di tutto ciò che l'Italia offre anche all'estero. Fico è sicuramente una realtà unica sia in Italia ma possiamo dirlo anche nel mondo perché è qui stato costruito a Bologna al centro della Food Valley e non ci sono parchi di questo tipo in nessun'altra parte del mondo. E' proprio per questo che è stata scelta Bologna come cuore di Fico? Esatto, Bologna è proprio al centro della cosiddetta Food Valley, è un luogo di grandi passaggi e Fico cerca di intercettare sia il turismo italiano che quello internazionale quando poi ripartirà come prima della pandemia, sia di essere un luogo che i cittadini di Bologna e di tutta l'Emilia Romagna possono vivere anche quotidianamente con delle formule di abbonamenti che permettono di tornare più volte nel parco e di goderne tutto l'intrattenimento e la ristorazione e tutto quello che offre. Parliamo anche della storia di Fico, quando è nato, quando è iniziato questo percorso fino ad arrivare ai giorni nostri? Fico nasce nel 2017 diciamo un po' come l'erede di quello che era Expo, nasce col grande entusiasmo che c'era in Italia intorno alla rivalutazione appunto del nostro cibo, di tutto il made in Italy del food e ha riaperto poi a luglio lo scorso anno, un anno fa esatto, rinnovato nel suo modello di business proprio come parco delle persone, quindi un luogo come dicevamo prima dove le persone possono venire a intrattenersi e trascorrere una giornata piacevole con tutta la famiglia. A proposito di intrattenimento, proprio alle spalle di Valentina Lanza vediamo il vigneto interno, perché c'è un vigneto interno e un vigneto esterno che vedremo successivamente, ma la peculiarità è un percorso proprio all'interno anziché dà il via proprio alla rotonda del vino. Sì, dalla riapertura di luglio scorso Fico si presenta completamente rinnovato con appunto queste scenografie molto impattanti che rappresentano qui la vigna, abbiamo invece la rotonda della pasta con un enorme spaghettone fatto a forma di scivolo dove i bambini possono giocare, abbiamo una forma di formaggio alta 6 metri dove sia gli adulti possono passare in piedi ma i bambini possono gattonare dentro dei buchini come se fossero dei topini dentro il formaggio. Insomma abbiamo cercato anche di rendere goliardico e divertente questo percorso, quindi non soltanto un parco del cibo ma un parco delle persone, un parco di divertimento per tutti. Anche perché il cibo unisce tutte le generazioni e forse proprio questa scelta si rivela azzeccata. Esatto, il cibo intorno alla tavola raduna proprio tutti quanti e proprio così anche Fico vuole essere un parco adatto sia ai bambini, alle famiglie, sia a chi invece vuole andare alla scoperta delle particolarità del cibo italiano, andare ad assaggiare per esempio i tartufi, piuttosto che bere un calice di vino qui nelle nostre cantine. La data di nascita di Fico è il 2017, parliamo anche dell'importante contributo di Coppa Alleanza 3.0 alla nascita proprio di Fico. Sì, Fico nasce dall'esperienza, dalla grande esperienza retail di due partner importanti principalmente appunto Coppa Alleanza 3.0 e Italy che hanno fatto tesoro appunto di tutto il loro know-how intorno al mondo del retail per dare vita a Fico. Noi ringraziamo Valentina Lanza, responsabile marketing di Fico e il parco tematico dedicato al cibo qui a Bologna. Adesso è il momento di parlare di comunicazione ed eventi, sempre qui da Bologna. Siamo in compagnia di Federico Gardumi, responsabile degli eventi per quanto riguarda Fico e il parco tematico dedicato al cibo qui a Bologna. Ci troviamo nel frutteto, una delle aree dedicate agli eventi. Sì, diciamo che con l'estate il frutteto diventa un po' il fulcro delle serate di Fico, questo perché questo frutteto che insomma abbiamo sfruttato anche negli anni scorsi che poi adesso insomma è circondato anche dall'orto, quindi è ancora più ricco, porta con sé diciamo tre serate che vanno avanti per tutta l'estate. La prima è il giovedì sera, quindi è un aperitivo che si chiama Aperifico, proprio per riprendere il nome della location dove siamo ed è un aperitivo che sfrutta tutte le eccellenze italiane che abbiamo all'interno del parco, quindi i ristoratori verranno fuori. È un aperitivo che parte dalle 19 e poi va avanti anche fino insomma alla sera inoltrata. È un aperitivo musicale, quindi c'è un DJ e l'intento è proprio quello di far vivere questo spazio all'aria aperta, in mezzo diciamo così alla natura con degli allestimenti anche abbastanza contadini per così dire, quindi ci saranno le balle di fieno, ci saranno tutte le lucine appese come si usa molto in questo periodo e soprattutto ci saranno delle bancarelle di legno dove i nostri operatori daranno sia cibo che poi drink. Questa è la prima delle serate settimanali, segue poi subito quella di venerdì, che è una serata dedicata alla griglia e ai balli. Quindi ci sarà una prima parte in cui uno dei nostri operatori, la Maremmana Bio, farà delle grigliate all'esterno, quindi le persone potranno mangiarle proprio in questo spazio, seduti ai tavoli sopra il frutteto e subito dopo a seguire ci saranno varie piste, quindi l'idea è quella di mettere insieme vari generi perché esattamente come FICO ha varie eccellenze alimentari di un po' di tutti i tipi, di tutte le regioni, così vogliamo fare anche un po' con la nostra proposta di balli, quindi abbiamo una pista latina, abbiamo sicuramente una pista disco e poi in base alla serata si alterneranno delle piste in vigneto, invece swing, tango, country, quindi insomma ci sarà un bel mistone di balli e anche di target che verranno qui. Ultima serata invece è quella del sabato sera che è più dedicata alle famiglie, quindi quello che noi facciamo solitamente d'inverno che si chiama picnic, ovvero un picnic sotto la vigna all'interno, verrà trasferito totalmente qui all'esterno in frutteto, sarà quindi un picnic anche questo con musica e soprattutto con un'area dedicata alle bolle di sapone, quindi questa enorme massa di bolle sotto cui i bimbi potranno scorazzare, potranno divertirsi ed è una cosa che abbiamo già testato essere molto molto divertente, devo dire anche per gli adulti, anche per i genitori. Quindi diciamo questo è un po' il pacchetto serale di Fico Estate che appunto è partito e continuerà da qui fino a, diciamo poi in base al tempo a metà settembre oppure se insomma il tempo ce lo permette andremo avanti. Eventi per tutta l'età? Eventi per tutta l'età, esatto, diciamo che le serate sono proprio pensate per arrivare a dei pubblici diversi, vogliamo col sabato sera prendere quello che è il nostro target più tradizionale che è quello proprio della famiglia ma poi anche insomma chi invece ha voglia di uscire, divertirsi, ballare e perché no bere e mangiare qualcosa di buono. Abbiamo visto anche un importante centro congressi qui a Fico e possiamo anche sottolineare anche la presenza negli anni scorsi anche delle scuole che venivano qui in tanti ragazzi a seguire e ad assistere a vedere anche il dietro le quinte, un po' come stiamo facendo noi oggi. Sì, diciamo che le scuole sono sempre state una parte molto importante di Fico sia per la funzione appunto educativa ma proprio perché per le gite è un parco proprio da scoprire, quindi vedere tutta la filiera e anche scoprire attraverso le giostre che abbiamo all'interno proprio come viene prodotto e lavorato il cibo. Il centro congressi invece è un bellissimo polo per la parte business, quindi per la parte aziendale che a tutt'oggi è una parte molto importante del nostro business, soprattutto poi quando integrata con appunto tutta la parte di ristorazione interna e con vari team building soprattutto a tema cibo che facciamo qui nel parco. Parliamo anche di un evento importante che ci sarà qui a luglio. A luglio ospiteremo il festival dello street food, quindi l'idea è proprio quella di portare vario cibo di strada che di fatto è proprio nella tradizione italiana, portarla proprio qui in frutteto e dare la possibilità alle persone attraverso un biglietto unico di spizzicare cose un po' di tutte le regioni. Ovviamente questo sarà il 23-24 luglio, tutto condito da sana musica dal vivo che dà sempre quel tocco molto street. All'interno del parco tematico sul cibo di Fico qui a Bologna per la seconda parte di Agrisette presenteremo diverse aree che si trovano proprio qui all'interno. La prima che si trova proprio all'ingresso di Fico è l'area dedicata alla fattoria. In nostra compagnia c'è Monia Formica che è l'addetta proprio al reparto della fattoria qui di Fico. Qui cosa possiamo trovare? Vediamo tantissimi animali. Sì, qui si vede un po' di ogni, un po' di ogni di quello che c'è nelle fattorie che si possono trovare punemente. Abbiamo gli asini, le vacche, capre, pecore, maiali, tacchini, ocche e poi dopo le classici animali che si trovano nelle nostre fattorie, nelle cose. Si viene qui e si vede proprio gli animali. Gli si toccano, gli si dà da mangiare, si accarezzano, loro ti leccano. È la prima attrazione che si può vedere proprio qui a Fico. Innanzitutto come viene accolta proprio dalle persone che vengono qui proprio e sono i primi spettatori mi verrebbe da dire perché noi come televisione usiamo spesso questo termine che sono i primi anche proprio ad assistere proprio all'ingresso di Fico. Sì, infatti sono proprio loro che accolgono la gente che arriva dentro con la loro semplicità che possono dare perché sono talmente affettuosi che è una roba esagerata partendo anche dalle capre e dalle pecore, arrivando alle asine, le vacche, i maiali, cioè proprio tutto, tutto. Loro accolgono anche i bambini, i bambini vanno entusiasti, proprio si vede, non vedono loro, mamma guarda, mamma, mamma, perché purtroppo questa è una bella realtà perché si vede davvero l'animale e lo si può accarezzare, dargli da mangiare ed essere coccolati anche da loro, amano fare le coccole e riceverle anche. Parliamo anche delle razze che possiamo trovare qui perché ce ne sono anche di particolari e qualcuna anche proprio tipica del nostro territorio. Sì, infatti è vero. Allora, partiamo proprio dall'entrata che abbiamo le ocche, le ocche ne abbiamo di due tipi, c'è una romagnola e una tolosa e poi abbiamo i tacchini che sono due razze nostrane proprio. Poi abbiamo le asine, che c'è una martina franca e una romagnola, poi abbiamo le capre e le pecore che abbiamo due camosciate, abbiamo tre commisani, due bergamasche e una sarda. Poi abbiamo i maiali, i maiali abbiamo i nostri rosa del territorio e se abbiamo le more romagnole. Poi ci passiamo alle vacche, le vacche abbiamo la frisona bianca e nera, quella da latte e ci sono due brune che sono mamma e figlia, è proprio nata qua, Agostina si chiama, poi c'è Biancolatte e poi abbiamo lei che è Brunella, la mamma di Agostina. Monia, una cosa che ci hai detto fuori dai microfoni, ma adesso la portiamo dentro ai microfoni e dal 2017 che sei qui. Da quando ho aperto il parco, che sono qua, dal 2017 che sono con loro. E vediamo anche una certa emozione nel raccontarlo, perché gli animali fanno emozionare. Tanto, 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 anche perché una frase che ho sempre detto e continuo a dire ai bambini, io vengo su da animali, cioè io sono nata con gli animali e mio padre mi ha sempre detto ricordati una cosa, gli animali ti danno ciò che tu dai, per cui se tu gli dai del bene, loro ti fanno del bene. Beh, direi che è una conclusione splendida della nostra intervista con Monia Formica, che ringraziamo, ha detto la fattoria, proprio qui all'interno del parco tematico di Fico. Adesso andiamo a scoprire l'area del Vigneto, un'altra area, proprio qui a Bologna. Dagli animali dell'ingresso di Fico, il parco tematico dedicato al cibo qui a Bologna, ci siamo spostati all'interno del Vigneto, come vedete proprio è un ambiente comune, è noto proprio ai nostri telespettatori di Agrisette e in nostra compagnia. C'è Valentina Lanza, che è il responsabile marketing di Fico e dove ci troviamo in questo momento è il Vigneto, ma raccoglie tutta la biodiversità italiana, possiamo dirlo. Esatto, il Vigneto di Fico rappresenta con i suoi vitigni tutta la ricchezza della biodiversità del patrimonio italiano, è stato costruito proprio per questo, per rappresentarlo ai nostri visitatori. Questa è l'area che dedichiamo alle cene, quindi per tutta l'estate si può cenare in vigna, un'esperienza davvero unica ed è una delle tre aree esterne del parco. Possiamo fare anche un cenno alla nostra introduzione, perché dalla vigna interna ci siamo spostati anche alla vigna esterna, anche questa è una caratteristica, una peculiarità di Fico. Esatto, perché Fico si può vivere in tutte le stagioni, in esterno appunto qui in vigna, all'aperto, in inverno invece abbiamo un picnic nella nostra vigna interna, illuminata. È un posto suggestivo dove allestiamo questa sorta di picnic per le famiglie durante i weekend. Valentina, abbiamo detto proprio qui all'interno del vigneto esterno invece quali tipi di eventi vengono organizzati, cosa viene organizzato qui e poi parliamo anche dopo delle due altre aree che sono presenti proprio qui all'esterno di Fico. Certo, la vigna è l'area dedicata alla cena, al cenare in tranquillità, una cena per due, riservata, in un'ambientazione anche romantica se possiamo dire. E poi le altre aree invece hanno ognuna una sua peculiarità, l'uliveto è la zona del relax e della meditazione, noi la chiamiamo così, una zona più tranquilla dove si può passeggiare all'esterno e anche lì ci sono tutte le varietà di ulivi presenti nel nostro panorama italiano. Mentre il frutteto è la zona del divertimento e degli eventi che sarà animato per tutta l'estate con tante attività. E poi c'è una piccola chicca che è la nostra tartufaia, una zona unica che i visitatori di Fico sicuramente apprezzano molto perché permette appunto di passeggiare in quest'area e talvolta anche di cenare con dei tavolini molto molto riservati. Quali sono le aree preferite dai visitatori di Fico? Beh sicuramente il divertimento del frutteto è quello che si anima di più alla sera con i balli, con la musica, però devo dire che anche cenare in vigna è un'esperienza esclusiva e magica che non dappertutto si può fare. È una curiosità perché è una piccola chicca proprio la tartufaia, prima di entrare qui a Fico era difficile pensare che ci potesse essere proprio una tartufaia. Sì, la tartufaia stupisce molto tutti quelli che arrivano a Fico, trovarla, sapere appunto che può esistere una tartufaia è una di quelle esperienze che solo a Fico si possono fare. Noi ringraziamo Valentina Lanza, responsabile marketing di Fico per essere stata qui con noi, prosegue il nostro viaggio all'interno del parco tematico del cibo qui a Bologna. Terza parte del nostro appuntamento con Agri7 è sempre qui dal parco tematico dedicato al cibo qui a Bologna, siamo proprio ospiti di Fico, è il momento di parlare di innovazione e di cibo. Due parole che vanno a braccetto nella realtà di Robocubo. In nostra compagnia c'è Seth San Giorgi, responsabile dello stand di Robocubo qui a Fico. Innanzitutto, cos'è Robocubo e cos'è la vostra realtà? Allora, noi siamo un'azienda metalmeccanica, questa è la prima sorpresa, perché uno dentro il parco di Fico si aspetta giustamente dei produttori alimentari. Noi siamo il diritto alle quinte di tanti che lavorano con appunto il nostro sistema di trasformazione, perché Robocubo ha inventato questo sistema di trasformazione che è appunto la linea Cubo. Quando ho aperto il parco di Fico nel 2017 a novembre, noi volevamo essere presenti con la nostra tecnologia. Essere presenti però solo con la tecnologia significava non far capire che cosa facciamo realmente, quali sono le potenzialità del nostro sistema di trasformazione. Quindi abbiamo inventato uno spazio in cui noi tutti i giorni facciamo delle demo e facciamo vedere in diretta quello che è il nostro sistema. E abbiamo creato anche una piccola linea di produzione che è esclusiva solo per il parco di Fico e che appunto produciamo qui confetture, marmellate, nettari di frutta e mostarde. È una scelta che nasce dal fatto che frutta e verdura sono la base della piramide alimentare. Quindi sono anche i prodotti più semplici da rovinare. Appena inizi a toccarli con una lama hai una perdita di questa materia prima, di sali minerali, di vitamine, di terpeni se si tratta di buccia. Facendo lavorare il nostro macchinario facciamo vedere che rispettiamo la materia prima e quindi facciamo provare con mano proprio la differenza perché se tu l'assaggi hai un effetto wow, senti la differenza con quello che sarebbe la confettura che fai a casa e che tutti hanno bene o male avuto fatta in famiglia, insomma, o dalla nonna o dalla mamma. Quindi riusciamo a far capire in pochissimo grazie all'assaggio quello che è il nostro lavoro. L'effetto wow mi piace tantissimo e mi sta mettendo tantissima curiosità. Seth, innanzitutto una cosa, materia prima 100% italiana? Sì, a parte il nettare di ananas che ancora non siamo in grado di procurarlo, però tutto il resto è materia prima italiana, assolutamente. Questa è una decisione anche proprio per legarvi al territorio italiano e anche per garantire una certa qualità? Assolutamente sì, anche perché ha senso nell'essere dentro il parco di Fico. Il macchinario può lavorare qualsiasi tipo di materia prima e noi la vendiamo in tutto il mondo, l'abbiamo brevettato e ovviamente in ogni paese poi utilizzano la loro materia prima. Noi qui siamo in Italia, siamo dentro il parco delle eccellenze italiane e quindi dovevamo avere la materia prima italiana, giustamente. Dato la curiosità che ha creato Seth San Giorgi, responsabile dello stand di RoboCubo qui di Fico, adesso è il momento di andare a scoprire proprio l'attività di RoboCubo e lo andiamo a fare con Alberto Bianchi. È il momento di vedere nei fatti proprio di cosa si occupa RoboCubo e lo facciamo proprio in compagnia di Alberto Bianchi che è il responsabile del settore demo di RoboCubo. Davanti a noi Alberto abbiamo un sistema alimentare, dico bene? Esattamente, questo è il nostro sistema di trasformazione alimentare che è stato creato e ideato dalla nostra azienda. Di cosa stiamo parlando? Questa è una macchinaria importante, io lo chiamo macchinario, voi lo chiamate sistema per quale motivo? Sistema perché è in grado di riprodurre uno dopo l'altro in maniera autonoma tutti gli step di produzione alimentare che chiunque di noi può fare a casa o che le nostre nonne facevano in campagna per quel che riguarda ad esempio le confetture di cui una ve la mostro oggi proprio sul momento per capire meglio il funzionamento del nostro sistema. Oggi vedremo una confettura di fragole liscia, dico bene? Assolutamente sì, sì. Cosa significa confettura di fragola liscia? Anche questa è anche la differenza tra confetture e marmellate. Assolutamente sì perché questo non è molto conosciuto. Le confetture e le marmellate sono entrambi dei prodotti dolciari, ovviamente a base di frutta. Secondo una nuova normativa europea per marmellate si intendono tra virgolette tutte le confetture di agromi, quindi parliamo di marmellata di arancia, marmellata di limone, marmellata di dolpenmo e via dicendo, tutte le altre sono confetture. Quindi in questo caso oggi vi mostrerò con il nostro sistema come si fa una confettura liscia di fragola. Direi che è il momento di iniziare e far vedere proprio tutti i passaggi partendo dagli ingredienti. Assolutamente, con molto piacere. Innanzitutto abbiamo il cellofan sopra ogni confezione, per quale motivo? Perché così andiamo a evitare l'ossidazione della materia prima che questa venga messa all'interno della nostra vasca e del nostro sistema. Quindi abbiamo delle fragole lisce, abbiamo un saccarosio, quindi 20% di zucchero, che serve sia per addolcire il nostro prodotto finale, ma è anche un conservante come sale da cucina, quindi sottraendo l'acqua che è il presupposto principale per la crisi da batterica va a inibire proprio quest'ultima. Come ultimo ingrediente abbiamo un po' di succo di limone, che ha lo scopo di contrastare l'eccessivo sapore dolce dello zucchero e nello stesso tempo riesce ad abbassare anche il pH, quindi il grado di acidità finale del prodotto, sempre al fine di inibire la crescita batterica e delle muffe. Andiamo a mettere i nostri ingredienti all'interno della nostra vasca. È il momento proprio di passare dalle parole ai fatti, mi verrebbe da dire Alberto. In questo caso abbiamo inserito le fragole, poi adesso inseriremo il saccarosio e il succo di limone. Il primo step, dicevamo Alberto, è in precedenza anche la scelta del cutter proprio. Assolutamente sì, perché la nostra azienda nasce nel 1978 come produttrice di cutter, quindi quegli strumenti che sono in grado di trasformare qualsiasi tipo di materia prima attraverso l'azione del taglio. È chiaro che essendo un sistema che è in grado di produrre qualsiasi tipo di prodotto alimentare finale, quindi dal fluido, semifluido e anche al semisolido, quindi parliamo di nettari, succhi, confetture, marmellate, ma anche ragù, pesto da genovese, canditi, gelati o addirittura la pasta della pizza, io devo scegliere anticipatamente il tipo di cutter che vado a inserire nella mia vasca. In questo caso abbiamo una doppia lama liscia perché dobbiamo fare una confettura liscia, ovvero non a pezzettoni, semplicemente parlando. Abbiamo inserito i prodotti, adesso cosa succede? Adesso chiudiamo il nostro sistema. E vediamo anche che Alberto Bianchi sta lavorando a un piccolo computerino che si trova proprio all'interno del sistema, io lo chiamo macchinario, ma il termine è corretto definirlo sistema. In questo computerino sono già salvati tutti i passaggi. Assolutamente sì, se si ha già la ricetta pronta, io posso andarla a memorizzare step by step all'interno del nostro sistema, come in questo caso, quindi vado semplicemente a selezionarla come un normale menu a tendina, confettura di fragola, la seleziono e poi semplicemente la faccio partire. Come potete vedere, il primo vantaggio del nostro sistema è l'automaticità, ovvero che il sistema parte da solo e svolge tutti quegli step, come dicevo prima, che chiunque di noi può svolgere a casa, solo in maniera automatica, quindi lasciando libero l'operatore di fare quello che vuole in cucina. I vantaggi di questo sistema, Alberto? Allora, il primo vantaggio, l'abbiamo appena, diciamo, sorpassato perché è stato molto silenzioso, è il primo step che è uguale per qualsiasi tipo di trasformazione alimentare, è la rimozione dell'aria all'interno della vasca. Una volta, ovviamente, che noi abbiamo messo dentro tutti gli ingredienti e abbiamo chiuso il sistema. Rimozione dell'aria che avviene grazie all'ausilio di una pompa da vuoto che è situata in questo vano ed è collegata al nostro sistema attraverso questo tubo. Perché andiamo a fare il vuoto, andiamo a rimuovere l'aria? Perché in questo caso rimuoviamo l'ossigeno che è il fautore principale dell'ossidazione delle proprietà organolettiche delle materie prime, che in questo caso vengono mantenute per un buon 85-90% dall'inizio alla fine del nostro processo. Proprietà organolettiche che tutti conosciamo, tutti conosciamo e tutti apprezziamo, quindi parliamo di aromi, profumi, colori, sapori. E ho voluto proprio scegliere la fragola perché, come la mela e la pera, sono materie prime che hanno delle proprietà organolettiche molto delicate e dimostro che con questo sistema riescono a mantenersi con una qualità notevolmente eccellente fino alla fine del nostro processo. Secondo step? Il secondo step è uno step di cottura, scioglimento, mescolamento, degranulazione, bollitura dei nostri ingredienti al fine di formare un semilavorato intermedio. La temperatura di processo è notevolmente inferiore. Se noi andiamo sulle dolomite e bolliamo l'acqua, non bolle a 100 gradi, bolle a 75-80 perché la pressione è molto inferiore. Qua è la stessa cosa. Lavorando sotto ruota abbiamo il vantaggio di poter processare le nostre materie prime a una temperatura compresa tra 75 e 90 gradi. Non solo è un notevole risparmio energetico, è un risparmio anche di tempo, ma soprattutto possiamo processare le nostre materie prime senza andare a stressare termicamente ulteriormente le stesse. Quindi riuscendo a mantenere la qualità delle stesse materie prime dall'inizio alla fine. La curiosità è che per effettuare e per arrivare al risultato finale di questo processo ci vogliono 8 minuti. Sì, 8-10 minuti circa, ovviamente indipendente fra la materia prima scelta e anche del tipo di prodotto finale che noi andiamo a fare. Il processo sta andando avanti proprio mentre noi stiamo parlando. Adesso cosa ci aspetta? C'è il terzo ed ultimo step del nostro processo che è la concentrazione. Concentrare vuol dire allontanare l'acqua sotto forma di vapore attraverso l'azione del calore. Come potete sentire da questo rumorino un po' antipatico è la pompa da vuoto che lavora in dinamico. Che cosa vuol dire? Vuol dire che man mano il vapore acro viene prodotto man mano la pompa da vuoto lo aspira in maniera dinamica, in maniera continua tradotto in soldoni è come se io qui all'interno della vasca la pressione fosse vera o notevolmente ridotto. Tradotto ancora in soldoni invece che impiegarci 2, 3, 4 ore come impiegavano le nostre nonne in campagna qui ci impieghiamo 8-10 minuti. Aggiungo un'ultima cosa un altro vantaggio del nostro sistema è il riscaldamento indiretto ovvero non c'è la fiamma a contatto col fondo della pentola come a casa che potrebbe produrre carbonizzazioni e caramelizzazioni. Abbiamo un riscaldamento indiretto indiretto scusate grazie al del vapore acro su riscaldato a 120 gradi prodotto dall'acqua di rete da una caldaia che viene insufflato all'interno di un intercapedine con la quale è formata la nostra vasca al fine di avere un riscaldamento omogeneo, veloce e nello stesso tempo efficace. Siamo arrivati alla fine del percorso dico bene Alberto? Assolutamente sì la nostra confettura è pronta. Possiamo farla vedere proprio? Assolutamente sì adesso la andiamo a estrarre. Vediamo proprio questa fase perché siamo arrivati al risultato finale mi verrebbe da dire. Assolutamente sì e adesso lo guardiamo e lo osserviamo e lo gustiamo anche. Innanzitutto Alberto a primo impatto cosa stai vedendo e soprattutto le prime cose che puoi captare? Assolutamente un colore eccezionale accattivante coinvolgente che è proprio della materia priminitiale. E anche l'essenza e anche proprio del prodotto è quella che ti aspettavi? Assolutamente sì questo lo si può subito percepire col gusto perché si possono avvertire proprio e percepire le proprietà organolettiche della materia prima. E adesso possiamo anche farla vedere proprio ancora più nel dettaglio magari anzi la facciamo vedere guardiamo proprio il colore un colore decisamente intenso. Questa è la confettura di fragola liscia che ci siamo proposti di fare all'inizio come potete vedere il colore che già per la fragola è un colore molto delicato è stato mantenuto praticamente completamente dall'inizio alla fine del nostro processo. grazie alla tecnologia sottovuoto. E ricordiamo un sistema completamente Robocubo. Assolutamente sì. Noi ringraziamo Alberto Bianchi responsabile del settore demo per quanto riguarda Robocubo è il momento della conclusione della puntata di Agrisette qui da Fico in compagnia di Valentina Lanza responsabile marketing di Fico qui a Bologna. Lo aveva preannunciato all'inizio della nostra puntata la grande forma di formaggio in compagnia di Valentina Lanza responsabile marketing ci siamo proprio spostati qui per la conclusione della nostra puntata e con lì qui il percorso per i più piccoli e per i più grandi quindi all'interno proprio della grande forma presente qui a Fico parco tematico dedicato al cibo qui a Bologna con Valentina Lanza è il momento di fare un piccolo bilancio su quello che abbiamo visto nel corso di questa puntata Sì abbiamo visto appunto il parco del cibo di Bologna dove vi aspettiamo quando volete per vivere una giornata nelle nostre aree sia all'interno che all'esterno quindi sia con il bel tempo che con il cattivo tempo Fico si può vivere e trascorrere insomma una giornata piacevole qui ci sono come vediamo anche le rappresentanze di tutti i grandi consorsi delle eccellenze italiane del cibo e quindi spero che sia stato per voi un viaggio interessante e divertente Assolutamente sì un viaggio veramente molto divertente molto bello quello proprio qui a Fico parliamo anche un po' del futuro perché abbiamo dato in primis la data di nascita che era quella del 2017 luglio 2021 invece coinciso con la ripartenza del nuovo corso di Fico ecco dal luglio 2021 cosa è emerso? da luglio 2021 abbiamo visto diciamo anche con soddisfazione una crescita lenta ma costante dei dati dei visitatori nonostante i mesi insomma anche comunque difficili che abbiamo attraversato anche nel 2022 ci aspettiamo per questa estate di tornare a vedere timidamente anche un turismo internazionale magari europeo e di continuare ad essere comunque un driver per il turismo della regione Emilia Romagna quindi che Fico possa continuare ad essere un luogo di attrazione del turismo per tutta la regione soprattutto parliamo di turismo parliamo dei turisti stranieri che vengono proprio qui a Fico sono tanti e soprattutto anche da che lato del mondo provengono soprattutto i turisti stranieri Europa Sud America oppure particolari altre aree del mondo beh c'è tanta curiosità intorno a Fico pre-pandemia vedevamo arrivare turisti un po' da tutto il mondo dall'Asia dall'America adesso ovviamente abbiamo attraversato due anni difficili abbiamo visto ritornare un po' il turismo europeo e pian piano speriamo insomma che riparta anche quello che arriva da più lontano sicuramente nei nostri progetti c'è quello di portare Fico all'estero quindi che questo possa essere il numero zero di un progetto che poi vada in tutto il mondo a portare l'eccellenza del cibo italiano infatti fabbrica italiana contadina è il nome proprio di Fico ci avete giocato un pochino sul nome a livello di comunicazione possiamo dirlo adesso certo il nome Fico è anche molto ironico ma l'ironia è una delle componenti di questo parco perché lo stare a tavola il divertirsi sono cose che non possono prescindere l'una dall'altra parliamo anche dell'importante lavoro sulla comunicazione e anche la crescita di interazioni sui canali social di Fico nel corso degli ultimi mesi noi ci impegniamo costantemente per comunicare questo parco per raccontarlo anche grazie appunto a chi come voi viene a trovarci lo facciamo attraverso i nostri canali proprietari quindi social network il nostro sito in primis ma anche appunto con magazine riviste tv e insomma tutto quello che si può mettere in campo per incuriosire le persone e spingerle a venire a visitare Fico a passare una giornata qui da noi dopo l'intervento di Valentina Lanza responsabile marketing di Fico siamo arrivati alla conclusione della puntata di Agri7 io ringrazio Massimo e Mattia Manini per il lavoro in montaggio e in regia vi ricordo l'appuntamento ogni sabato alle 21 e la domenica in replica alle 11 seguiteci sui nostri canali social Facebook e Instagram grazie a tutti voi per averci seguito buon proseguimento con i programmi di Telereggio grazie a tutti